Musica Telespettatori marchigiani buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale La Cronaca in apertura. Ennesimo suicidio nelle forze dell'ordine, un fenomeno che sta assumendo proporzioni davvero allarmanti. Dopo meno di 48 ore dalla vicenda del poliziotto che si era tolto la vita a capodarco, ieri un sottotenente dei calabinieri di 55 anni si è sparato un colpo di pistola presso la sua abitazione. Sposato, padre di due figlie con una vita, per quanto si sapeva, irreprensibile. Il militare dirigeva, affermo, la sezione del norma, il nucleo operativo e il radiomobile della compagnia. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso, costernati familiari e colleghi e del tutto ignote le cause che lo hanno portato al gesto estremo. Un appensionato di 82 anni, Arcangelo Balduini, è stato trovato morto dopo essere stato travolto dalla sua moto zappa in strada dei condotti alla periferia di Pesaro. Probabilmente stava facendo marcia indietro e per cause da accertare ha sbattuto contro una rete. Il mezzo, senza più controllo, lo ha colpito al torace, gettandolo a terra. La fresa, ancora in azione, gli ha poi immaciullato una gamba. Quando sono a corsi familiari, l'anziano probabilmente era già morto per il trauma toracico. In questi primi mesi del 2022, gli infortuni in campagna con trattori e moto zappe hanno provocato quattro morti in diverse zone della provincia di Pesaro-Urbino, oltre a tre gravi ferimenti. La Guardia di Finanza di Falconara sequestra mezzo milione di euro ad un imprenditore per reati fiscali. Ci dice tutto, vanno uniti a scocco. La Guardia di Finanza di Falconara ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Ancona nei confronti di un imprenditore di Montemarciano per un importo pari ad oltre 500 mila euro. La misura è stata disposta nell'ambito di un procedimento penale instaurato a seguito di una verifica fiscale eseguita dai militari falconaresi nei confronti di una ditta individuale operante nel settore del commercio all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia, al termine della quale il titolare è stato denunciato per vari reati fiscali, quali l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione. L'imprenditore, denunciato infatti, non avrebbe adempiuto agli obblighi di presentazione della prescritta dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell'IVA relativamente all'annualità 2017, qualificandosi in questo caso quale evasore totale. Oltre a ciò, l'imprenditore è stato denunciato per il reato di mendacio bancario, in quanto avrebbe fornito a diversi istituti bancari dei dati falsi sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della propria ditta, presentando a tale scopo delle fatture false per 340 mila euro, in modo tale da ottenere indebitamente delle linee di credito che altrimenti non sarebbero state concesse. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo la corsia nord dell'autostrada a 14 per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, il conducente di un autocarro ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi lungo la carreggiata. La squadra di Pesaro, giunta sul posto con un'autobotta, ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura l'autista. Personale della Polizia di Stato di Ancona ha dato esecuzione alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa di abitazione e del divieto di avvicinamento a carico di un quarantenne di origini bengalesi ritenuto responsabile di maltrattamenti familiari e di lesioni nei confronti della moglie connazionale. Lo scorso 22 maggio gli agenti delle volanti erano intervenuti per sedare una lite durante la quale la donna era stata colpita anche con un mattarello subendo lievi ferite. Una pista ciclabile che sarebbe strategica per la città ma nella realtà dei fatti in condizioni di grave degrado. Il servizio da Fano di Lino Balestra. Parlare di pista ciclabile per questo percorso è alquanto azzardato. Di sicuro è molto frequentato e strategico per gli spostamenti a due ruote utilizzatissimo nel periodo estivo. Collega via Pisacane praticamente la statale 16 dopo la stazione di Fano con la zona del lungomare di Sassonia e quindi tutti gli stabilimenti balneari compresi quelli di Baia Metauro dove ci sono molti appartamenti estivi che triplicano così i residenti. Lo stato di incuria in cui versa questo percorso è scioccante. La vegetazione adiacente senza alcuna manutenzione ha invaso completamente la sede percorribile sia dai pedoni che dai ciclisti. Un pessimo biglietto da visita per la città di Fano. Guardate adesso per farvi rendere conto della situazione di come dovrebbero camminare le biciclette. Ecco guardate io sono arrivato qui ho una canna che mi passa di traverso. adesso mi devo abbassare. Qui sono veramente quasi in una giungla. Avrei bisogno di un macete per farmi largo in mezzo ai cannici. Adesso voi immaginate una bicicletta. Guardate io sono al massimo del mio consentito per non sbattere la ringhiera. Questa è una pista ciclabile di Fano. Come avviene spesso cittadini e residenti o semplici utilizzatori non trovando una risposta dopo innumerevoli segnalazioni in chi di dovere, come si dice in questi casi, prova a coinvolgere il mondo politico nella speranza che si smuova qualcosa alzando il tiro delle rimostranze. Questo è un altro dei problemi, un altro dei frutti di otto anni di questa amministrazione dove dicono di aver fatto tante cose. Allora percorrendo questa pista ciclabile che dà sul ponte dalla statale è quasi impossibile perché è piena di rovi, è devastata praticamente e se ci cammina a malapena una persona in due non si riesce più. È trascurata completamente. Questa è una zona abitatissima. Anche per chi viene dalla parte di San Lazzaro molte persone percorrono la statale, attraversano per raggiungere il mare perché non hanno altre alternative. per cui bisogna far qualcosa, bisogna sistemarla. Tra l'altro manca anche di segnalazioni. Dopo la grande siccità è arrivata la temuta grandine ma soltanto il 6% dell'azienda agricola è coperto da un'assicurazione che ripara da questi eventi purtroppo non più straordinari. Nella giornata di ieri i danni si sono registrati su strutture e coltivazioni soprattutto nell'entroterra di Senigallia tra Castellone di Suasa, Corinaldo, Tre Castelli, Ostra, Moro d'Alba e Chiaravalle. Danni anche in provincia di Pesaro Urbino nella zona di Mondavio. Decine di ettari colpiti con le colture in atto e danni a vigne, grano ed ortaggi. Fenomeni climatici violenti che sono ormai una consuetudine e che per gli agricoltori coincidono con una perdita economica, si legge in una nota diffusa oggi da Coldiretti. Aumento del 3,5% della produzione industriale nelle marche nel primo trimestre 2022. Una crescita superiore di quasi un punto rispetto alla media nazionale. Positiva l'attività delle vendite commerciali sul mercato interno con un più 7-8% con risultati positivi per il sistema moda e più deboli per meccanica ed alimentare. Sale anche l'export più 10% in negativo per altro marginale solo in legno e immobile. Positivi gli altri settori. I dati emergono dall'indagine trimestrale del Centro Studi Giuseppe Guzzini di Confindustria Marche in collaborazione con Intesa San Paolo. E c'è stato un incontro dei vertici regionali con il mondo della pesca pronto. Un intervento da 500.000 euro. Sentiamo. Il rischio è quello di desertificare un intero settore produttivo. Senza un massiccio intervento del Governo nazionale, l'intera filiera ittica è a rischio. Lo ha affermato il Presidente della Regione Acquaroli incontrando gli operatori della pesca presso la cooperativa Pescatori al porto di Ancona sul tema del caro gasolio. Le Marche sono l'unica regione italiana ad aver destinato risorse proprie per fronteggiare la questione. Abbiamo messo subito a disposizione mezzo milione di euro, ha precisato il Vice Presidente Mirko Carloni, Assessore alla Pesca, che saranno autorizzati nel prossimo Consiglio regionale appena possibile insieme a voi e concertando con le categorie metteremo a terra il bando per destinarli alle attività ittiche più in difficoltà. Le risorse regionali da sole sono insufficienti a fronteggiare la criticità, ma unica regione in Italia abbiamo voluto dare un segnale alla categoria. Carloni ha anche anticipato che presiedendo le Marche e la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni chiederà al Governo un'audizione per individuare soluzioni definitive. Senza interventi strutturali, conclude Acquaroli, il settore non può uscire da questa grave crisi. La capacità produttiva e competitiva nazionale è messa in discussione perché dall'altra parte dell'Adriatico c'è un sistema produttivo che opera in condizioni più favorevoli e questo non è ammissibile. Gli aggiornamenti quotidiani sulla pandemia sono 547 nuovi positivi registrati nelle Marche nell'ultime 24 ore con un tasso di incidenza accumulativo che scende ancora e si attesta a 218,62 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Virus in ritirata, quindi in flessione anche i ricoveri che sono 69 di cui 4 nelle terapie intensive. Da segnalare però ancora due decessi, un 79enne di Civitanova ed una donna di 89 anni di Sassoferrato, entrambi con patologie pregresse. Da domani Lufthansa rafforzerà la sua presenza ad Ancona raddoppiando i collegamenti per Monaco interrotti durante la pandemia e ripristinati nel luglio 2021 con una frequenza giornaliera. Saliranno dunque a 11 le frequenze settimanali dall'aeroporto Raffaello Sanzio. Presentata stamane in regione Artevinando la manifestazione enodegustativa giunta all'ottava edizione che si svolgerà a Civitanova Marche. Emanuela Cermignani Ritorna a Artevinando la manifestazione enodegustativa giunta all'ottava edizione che si svolgerà il 4 e il 5 giugno a Civitanova Marche, al Cosmopolitan Hotel. Questa mattina la presentazione ufficiale in regione con il vicepresidente e assessore regionale allo sviluppo economico Mirko Carloni e con il presidente e il vicepresidente dell'Associazione Culturale di Arte in Vino, rispettivamente Marino Calvigioni e Fabio Conti, presente anche il consigliere regionale Mirko Bilò. Ma il filo conduttore è sempre lo stesso per noi, partiamo con delle piccole cose, con dei convegni, delle presentazioni e poi dopo arriviamo all'evento club che è Artevinando, che è quello dei due giorni che ci porta un po' alla conoscenza della regione vera e propria perché noi abbiniamo lì vendi e passi aziende, sono tutte della regione, a partire da Ascoli fino a Pesaro, non è che prendiamo una posizione soltanto, ce ne abbiamo 4 o 5 ogni provincia, per collegare un po' tutto al territorio delle Marche. Questo è quello che intendiamo noi perché ci fa piacere portare avanti questo discorso perché la promozione ci sembra la cosa migliore da fare. lo facciamo come appassionati, non siamo esperti, siamo delle persone molto appassionate del territorio, appassionate del prodotto vino e facciamo questo tutto l'anno, una volta una cosa, una volta l'altra, ma stiamo sempre un po' sul pezzo, come dire. Dopo fatto questo ci saranno altri convegni, ci saranno altre serate, altre degustazioni. Nell'arco dell'anno se uno ci segue sui vari social, vede quello che noi portiamo avanti di tutto l'arco dell'anno. Trovare delle piccole aziende che sono sorte da pochi anni oppure che stanno venendo proprio fuori adesso, per noi è interessante perché non possiamo sempre pensare a quello che ha fatto nel tempo, bisogna pensare anche a quello che fare ora e in avanti, solo i giovani ci può portare in avanti e questo è molto interessante. Io quando vado nelle aziende che trovo ragazzi giovani che lavorano, li vedi, sopra il trattore oppure dentro la cantina a tirare fuori il vino, insomma, è un piacere vederli perché con tanto impegno, con tanto amore li vedi che lavorano e lavorano sotto. Quello è, per noi io penso che sia una cosa molto ma molto importante. Cancellare l'azienda ospedaliera Marche Nord è un danno enorme, ad affermarlo sono il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ed il primo cittadino di Fano Massimo Seri uniti nella convinzione che la proposta definitiva del modello di riforma della sanità marchigiana presentata dall'assessore Salta Martini sia allarmante. Il concetto è molto semplice e lo ribadiamo da mesi. Senza azienda ospedaliere il nord delle Marche non avrà le eccellenze che merita e senza eccellenze il nostro territorio è meno attrattivo. Di conseguenza tanti cittadini continueranno a scegliere l'Emilia Romagna per curare malattie o fare interventi aumentando quindi la mobilità passiva. E cambiamo argomento, è stato presentato ad Ascoli il calendario degli eventi dell'estate 2022. Tante le iniziative e le offerte per tutte le generazioni. Si parte con lo Street Food Festival. Abbiamo ascoltato il sindaco e l'assessore agli eventi Monia Vallesi. Sindaco partiamo dalla novità di questo calendario eventi, un po' la prima volta per Ascoli. Sì, è un'iniziativa importante. Oggi abbiamo presentato il calendario eventi, uno strumento importante per gli ascolani e anche per i turisti perché con questo calendario lavoriamo su due fronti a livello turistico sia sull'attrattività sia sull'accoglienza perché quando il turista arriverà ad Ascoli ogni giorno c'è un'iniziativa, ogni giorno hai l'opportunità di partecipare a un evento culturale, sportivo e gastronomico. La cosa secondo me rilevante di questo calendario è la diversità degli eventi. Quindi passiamo dagli eventi per bambini a eventi floroviaistici, a eventi concerti. Quest'anno ci sarà Ascoli Summer Festival e gli eventi gastronomici, culturali. Quindi riusciamo a dare una risposta a tutte le fasce di età. La novità è Ascoli Summer Festival, questo evento nuovo, facciamo tre, quattro perché c'è la notte bianca e poi tre concerti per un pubblico più giovane ma non solo perché comunque c'è anche Bruno Risasse diciamo ha una risposta anche di un pubblico più grande. Quindi cerchiamo anche con questo nuovo festival di riavvivare la città e di ripartire tutti insieme. Monevallesi da qui a ottobre diciamo che Ascoli è pronta per ospitare tantissimi eventi che riguardano un po' tutte le varie generazioni e multidisciplinare. Si parta dallo sport, alla musica, ai giochi per ragazzi. Questo calendario eventi che è la vera novità? Assolutamente sì. Abbiamo cercato anche di accontentare più fasce partendo dai bambini, con le famiglie e fino ad arrivare ai concerti Summer Festival per i ragazzi e ai festival culturali che si svolgeranno nelle zone periferiche ad Ascoli unendo molti siti. Abbiamo anche dei festival agroalimentari. Ci saranno degli street food festival. Partirà dal 2 al 5 giugno a San Pietro in Castello. Lo street food festival che è un food dedicato anche a una base artistica di eventi in programmazione che ogni giorno ci sarà un artista diverso, quello sì. Con Molella che era un po' il DJ dei nostri tempi. Molella è un DJ che sicuramente unisce un po' la nostra fascia d'età ma sono certa che indicherà anche i ragazzi un po' più giovani perché comunque alcune tradizioni poi non cambiano. Il Comitato Provinciale dell'Ampi di Ancona e tutte le sue sezioni si stringono al dolore dei familiari e dell'Ampi tutta per la scomparsa di Carlos Muraglia, presidente merito dell'Associazione riconosciuto gius lavorista, avvocato partigiano, senatore per tre volte e protagonista instancabile nella difesa dei diritti del mondo del lavoro e della Costituzione. Era nato ad Ancona nel 1923 ed avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. È stato prorogato fino al 30 settembre a Macerati il regime di sosta breve agevolata previsto nelle zone soggette a tariffazione di Corso Cavour e Corso Cailoli, Piazza Mazzini e Piazza Vittorio Veneto, nonché della disciplina temporanea di accesso alla ZTL del Centro Storico. La decisione è stata presa oggi con delibera della Giunta Comunale. E siamo allo sport, ci saranno anche le atlete ucraine alla Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesano in questo fine settimana. Ieri la conferenza stampa di presentazione Camilla Cataldo. Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica ancora alla Vitrifrigo Arena. La novità assoluta per quest'anno è la partecipazione della nazionale ucraina a una competizione fuori dal proprio paese dall'inizio del conflitto bellico. Lo sport unisce e le ragazze giallo-blu resteranno a Pesaro dal 31 maggio al 13 giugno, prima di ripartire per Israele, dove disputeranno gli europei. La città si è mossa di squadra con comitato organizzatore, comune, fiera di rimini e il supporto di Federazione e CONI. La Coppa del Mondo è un appuntamento fisso e collaudato ed è slittato al 3-5 giugno perché ad aprile, la data abituale, si facevano ancora i conti con i problemi relativi alla pandemia, che ha già cancellato la World Cup nel 2020 e l'ha consentita un anno fa senza pubblico. I nomi delle atlete saranno di primissimo piano, le farfalle azzurre sono il team più atteso. Parteciperanno 32 nazioni nella tredicesima edizione della manifestazione. Siamo riusciti a... beh, ci siamo sentiti subito appena ha iniziato il conflitto. Io ho il contatto di Irina Zirughina, che è la tecnica responsabile della squadra nazionale ucraina e gli ho detto che, insomma, se avevano bisogno di qualcosa l'Italia c'era. Come team manager, chiaramente, in quel momento ho parlato e poi gli ho detto che per la Coppa del Mondo, lo stesso, riuscivamo, insomma, in qualche maniera ad attivarci per farli venire. Loro, visto che non sono riusciti ad andare in nessun'altra Coppa, si sono sempre iscritti ma poi si sono cancellati per tanti problemi, ovviamente. E qui, invece, abbiamo fatto di tutto, insomma, per farli venire. Sarà un viaggio molto lungo perché prenderanno il Pullman da Kiev a Varsavia. Sono 12, 13, 14 ore di viaggio. E poi a Varsavia prenderanno l'aereo. Saranno ospitate da voi, proprio da Pesaro. Mancherà invece la Russia. Cosa si perde a livello tecnico? Sì, intanto per l'ospitalità siamo al comitato organizzatore insieme al comune di Pesaro. Abbiamo unito gli sforzi per ospitarle interamente per 15 giorni perché poi rimarranno dopo la Coppa un'altra settimana. Si alleneranno alla Fiera di Rimini perché purtroppo qui a Pesaro tutti gli impianti erano impegnati con l'altezza adeguata ad una nazionale e quindi anche la Fiera di Rimini ha collaborato con noi. Sì, purtroppo non ci sarà né Russia né Bielorussia. Questo ci dispiace molto perché sono due nazioni molto importanti nella ginnastica ritmica e molto interessanti. Noi non abbiamo divisioni, ci dispiace molto, siamo in contatto anche con loro, ma purtroppo questa è la realtà. L'Italia sarà grande protagonista anche questa volta? Eh sì, ci sono tante nazioni ma l'Italia in questo momento anche dovuto al fatto della guerra e quindi della mancanza della Russia, bisogna dirlo, della Bielorussia chiaramente abbiamo un vantaggio, però con la squadra come sta andando in questi ultimi tempi penso che non ce ne sarebbe stato per nessuno, insomma. Fino ad oggi perlomeno è così, speriamo che continui così anche nei prossimi dieci giorni, insomma. Cosa prevede il programma e anche per i biglietti? Cosa vi aspettate? Io mi aspetto un buon pubblico, ho visto anche, ieri abbiamo fatto i campionati assoluti, addirittura a Folgaria, quindi non facile né da raggiungere in un punto dove la ginnastica, eppure abbiamo avuto tutto un pieno e quindi bene, molto bene, le ragazze sono andate molto bene, siamo molto fiduciosi, pensiamo di avere tanta gente e abbiamo le dirette in televisione con la 7, direi che la ginnastica sta crescendo tanto, non solo nella ritmica a Montpellier abbiamo vinto la prima medaglia nel parkour, nella Coppa del Mondo e quindi benissimo, andiamo avanti così, ci stiamo ben attrezzando per il futuro. Calcio, si gioca domani la terza gara del triangolare per la Pool Scudetto di Serie D con la Recanatesi impegnata al Romeo Neri di Rimi nelle 18. I giallorossi per qualificarsi alle semifinali hanno a disposizione due risultati su tre ed hanno svolto a Porto Recanati l'allenamento di rifinitura. Pagliari dovrà fare a meno dei difensori, Ferrante e Somma. E vediamo ora le previsioni meteo per la giornata di mercoledì. Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì l'anticiclone sarà in ulteriore rinforzo sull'Italia, complice di una zona di bassa pressione che a largo del Portogallo richiamerà l'alta pressione nei prossimi giorni di matrice però nordafricana con un'ulteriore accentuazione del grande caldo per la risalita di masse d'aria molto calde appunto dal nordafrica in direzione mediterraneo centrale. Nel dettaglio possiamo osservare una giornata con cieli sereni o poco involosi dappertutto a parte di temporali di calore che durante il pomeriggio si formeranno sulle Alpi. In sintesi, ecco la mappa dell'Italia con questi scrosci di pioggia pomeridiani su Alpi prealpi e in maniera isolata l'Appennino settentrionale, altrove cieli sereni o poco involosi con temperature in aumento al nord, al centro-sud valori da piena estate diffusamente attorno ai 29-32 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti li trovate sull'app gratuita di Trebi Meteo. E chiudiamo con il volley. Giovane, di talento e affamato di vittoria, un altro prospetto di qualità. Si accinge a vestire la casacca della Lube 22-23. La società biancorossa annuncia l'ingaggio con la formula del prestito annuale nel ruolo di schiacciatore del campione iridato Under 21, Mattia Gottardo, cresciuto da laterale nelle giovanili della QN Padova. È tutto per il nostro telegiornale. Appuntamento a domani. Grazie.